Benvenuti nel salotto letterario del Papavero, nell'ambito degli Sport Days. Oggi sono con noi Procolo Ascolese e Luigi Ciccarelli, autori del libro Dentro la giustizia, breve viaggio nelle dinamiche del processo penale, dal delitto di Avetrana al caso ThyssenKrupp. Da dove è nata l'idea di scrivere questo testo? L'idea di scrivere questo testo è nata dalla volontà di porre il patrimonio di esperienza acquisito in ambito giudiziario al servizio di quanti, avendo seguito con particolare interesse i processi presi in esame, vogliano approfondire i temi giuridici che di volta in volta l'autorità giudiziaria ha dovuto affrontare prima di giungere alla decisione finale. Ed è quindi un libro rivolto a tutti coloro che in qualche modo vogliano conoscere fino in fondo quali siano stati i ragionamenti, quale sia stato il percorso logico che i giudici hanno dovuto seguire nello sforzo di rendere giusta la sentenza e improbabile l'errore giudiziario. Che significato ha ripercorrere oggi a distanza di anni casi giudiziari famosissimi che sono stati a lungo discussi e dibattuti quando il clamore mediatico è ormai finito? L'intento nostro è stato quello appunto di riprendere questi casi giudiziari famosi che all'epoca hanno avuto molto clamore. In molti casi ne sono nati dei dibattiti nazionali. Diciamo, come sempre, nel clamore mediatico si finisce poi in un calderone dove c'è di tutto, ci sono varie opinioni che si mescolano ai fatti, ci sono delle ipotesi che poi vengono smentite. La gente viene catapultata in una situazione dove ci sono tante informazioni che vengono messe in circolo, ma poi molti di questi non sono corrette. Quindi l'intento è stato quello di riprendere questi casi per mettere un punto fermo a queste vicende e andare a ripercorrere i fatti reali che sono stati poi accertati da una sentenza emessa dai giudici perché il lavoro è stato fatto sostanzialmente con carte alla mano quindi andandoci a prendere le varie sentenze dei vari gradi di giudizio e da lì abbiamo ricostruito le vicende. Quindi è un modo per le persone di sapere alla fine la verità processuale di queste vicende così importanti perché poi nel clamore mediatico certi dettagli possono essere persi e col passare del tempo non ci si ricorda nemmeno più come è andata a finire una vicenda invece con questo libro noi mettiamo a disposizione queste storie con i fatti così come si sono svolte e così come sono stati accertati dalle sentenze. Poi c'è un altro significato molto importante che è quello di ridare un nome, un volto, un ricordo di persone che sono rimaste vittime di questi delitti e quindi ci piace anche sottolineare questo aspetto. Al centro di questo libro ci sono sei processi frutto di storie molto diverse tra loro siete comunque riusciti a trovare un filo conduttore? In realtà si tratta di storie molto diverse ma ad accomunare le quali ci sono le medesime tensioni morali che hanno accompagnato e che devono sempre accompagnare la ricerca della verità che deve essere compiuta sempre procedendo con i metodi dimostrati migliori dalla ragione e dall'esperienza naturalmente nel solco tracciato da quelli che sono gli elementi che caratterizzano poi in concreto il singolo caso. Solo operando in tal modo sarà possibile stabilire di volta in volta che se per esempio in un caso la confessione può essere considerata una prova piena in un altro caso invece può non esserlo. Se in un caso può bastare al giudice per emettere una sentenza di condanna la parola di un solo testimone in un altro caso potrebbe invece non bastare neanche la parola di 100 testimoni. Se in un caso può essere considerata decisiva una perizia in un altro caso non può esserlo e così via discorrendo. Ciò che conta quindi andare in profondità, criticare, confrontare, sceverare tutto questo sempre però sull'onda di quelle tensioni morali che a mio avviso non possono mai mancare nel procedere seriamente alla ricerca della verità. Il vostro libro non è solo un tentativo di fare chiarezza su questi sei processi famosissimi ma anche di creare un nuovo format indirezzato a un pubblico comunque vasto. Possiamo dunque aspettarci un nuovo volume, una serie di volumi che trattano tematiche giuridiche diverse oppure nuovi casi? Il libro nasce con il chiaro intento di rivolgersi a due tipologie di lettori che sono sia quelli che hanno una formazione giuridica e lì per loro c'è precisamente la parte dove io intervisto l'avvocato a Scolese e si trattano tematiche giudiziarie. Invece poi c'è la parte dei processi che comunque si rivolge anche a chi non ha un background giuridico-giudiziario ma magari può avere interesse a ripercorrere le vicende che in ogni caso ha ascoltato a suo tempo tramite le televisioni o ha letto dai giornali. Sicuramente l'idea di fare un secondo volume con altri casi giudiziari, altre questioni giuridiche da affrontare è qualcosa che stiamo valutando e credo che comunque a breve potrebbe andare in porto. Noi prima di salutarvi ricordiamo che per i non vedenti è possibile avere l'audiolibro registrato dagli autori stessi. Ringraziamo Procolò Scolese e Luigi Ciccarelli e invitandovi a leggere il loro libro vi auguriamo un buon proseguimento. Buona serata. Buona serata e buona lettura a tutti.